Mi servono crediti? FIFA15CoinSmile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yep ragazzi, bentornati su Giovi HD Spoh e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un video nel quale vi mostrerò, a mio parere, i migliori transfer usciti in questi giorni, usciti lo scorso giorno, che ha rilasciato la EA. Questi sono secondo me i 6 milioni di transfer di questa prima ondata di transfer e ce ne saranno altre. Ma iniziamo con il primo giocatore che si chiama Alessio Cerci, passato al Milan con uno scambio dall'Atletico Madrid. Fernando Torres all'Atletico Madrid, Cerci al Milan. Poi abbiamo Eligeo, Eligero, Elia, esterno sinistro, si è trasferito al Southendompt e ha ricevuto anche una versione in form. Poi abbiamo Enzo Perez, secondo me è un altro buon acquisto del Valencia. Argentino è, nulla da dire, un buon centrocampista. Poi abbiamo, io da buon interista, uno dei due acquisti, si tratta di Xherdan Shaqiri, che nel Bayern Monaco ha già una versione in form. Comunque è un ottimo esterno destro, quindi sono contento di questo acquisto dell'Inter. Un acquisto che ho visto in pochi, si tratta di Yedlin. Yedlin giocava nella MLS e si è trasferito al Tottenham, e quindi un ottimo acquisto del Tottenham, un terzino destro veloce, 93 di velocità. Ora andiamo a vedere un attimo i prezzi sul mercato. Alessio Cerci del Milan costa sui 3.400, 3.000. Qua c'è un'offerta da 3.000, quindi sui 3.000 credo si abbasserà ancora. Se voi l'avete trovato nel pacchetto appena uscito, spero l'abbiate venduto, perché questi transfer appena usciti costano veramente tantissimo. Il prossimo giocatore che andiamo a vedere sul mercato si tratta di Fernando Torres. Fernando Torres ha un'offerta di 4.900, quindi quasi 5.000 crediti. Suo prezzo sicuramente si abbasserà ancora. Tutti i transfer si abbasseranno. Se l'avete trovato nel pacchetto, vedi nei pacchetti quando è uscito, spero l'abbiate venduto in tempo, perché i giocatori quando escono nei pacchetti veramente costano un casino. Shakiri costa sui 15.000 crediti, e questo costicchia di più rispetto agli altri due, perché comunque è un esterno destro. Veloce, buon tiro, ottimo dribbling, quindi è un ottimo esterno destro per le nostre serie A. Ma per chi fa una serie A, Enzo Perez costa sui, vediamo se c'è un'offerta, sui 10.000, 12.000. Non c'è ancora nessuna offerta, comunque sui 10.500, 10.000 crediti circa costa Enzo Perez. Suo prezzo sicuramente si abbasserà, perché comunque in BBVA ci sono altri grandi centrocampisti del calibro. Di Iniesta, Xavi, Modric, Crosser, Rodriguez, quindi si abbasserà sicuramente. Elia, vediamo il suo costo, è 12.000 crediti, qua 20.000 crediti addirittura, vabbè. Quindi circa 20.000 crediti il suo prezzo, si abbasserà anche egli, perché comunque ha solo l'ottima velocità e un buon dribbling. Il resto sono valori medi e bassi, come il 62 di tiro, quindi non credo costerà tantissimo. Ora passiamo all'ultimo dei miei sei preferiti in questa prima ondata di trasferimenti. Si tratta di Yedlin e questo è il giocatore più costoso, perché costa sui 200.000 crediti, ragazzi. Questo argento 200.000 crediti, se lo trovate in un pacchetto vendetelo subito, ragazzi, vendetelo subito. 200.000 crediti, proprio easy easy, ragazzi, easy easy, perché comunque il suo prezzo andrà ad abbassarsi. Probabilmente non arriverà a 5.000, 10.000 crediti, però si abbasserà rispetto ai 200.000 che costa ora, si abbasserà di sicuro. E questi erano i miei sei preferiti di questa prima ondata. Ditemi quali sono i vostri preferiti e alla prossima!